rifarla con la rincorsa! rifarla con la rincorsa sennò fai fatica da lì! devi rifarla con la rincorsa tanto guarda sei già lì! vai da lì non parte nessuno devi fare la rincorsa e stai tutto a destra quando vieni su vai! vai paulino vai! dai che fate è finita vai paulino bravo! impresa diretta! questo lo mettiamo su youtube! aiutatelo! ma inizio? ma devo spegnere la telecamera per aiutarti! dai che esce fuori la benzina si rovina le grafiche nuove! ma dai! cosa mangi? pane e mollica mangi dai! dai la porto su io! da lì! mazzardo! dai! mazzardo! le devo filmare non posso spegnerla dai! 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 dai paulino dai! dai paulino! oh filmami che la porto su io dai! posso? posso? posso portarla su io? vieni 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 qua si devi mettere qua mi devi filmare non c'è neanche un filmato io! lasciala! oh mi filmate non c'è neanche un filmato io! la faccio su io! grazie! ma sono mai fiammi il filmato io! dai filu! devi andare in avanti e non tornare indietro eh! andiamo indietro ancora mettili sopra allora dai mettili un altro in mezzo di sasso tira via anche tutti gli altri signor c'è il fatto di guardare che aveva che doveva tenere poi dentro? si mi piace bella dai dai paulino dai paulino è finita dai dai che è finita dai paulino dai po' stagnare e accendila anche la ingolfi in avanti apri apri come? è finita dai che è l'ultimo l'ultimo strappo vai non fermarti non fermarti a destra a destra dov'è che sta andando? ma dove va lui? ci ha visto andare di qua? si dov'è che sta andando non so lì Enzo Enzo a destra guarda subito a destra poi fermati che arrivo a destra a destra a destra a destra anche noi stiamo seminando vedi? ora stiamo seminando noi Grazie a tutti Marco o Carlo? Ah no, allora è un altro Fermi qua no, l'abbiamo incontrati No Ma che volo ha fatto? Sì Ma che volo ha fatto? Ascolta, io l'ho fatto uguale sull'asfalto Sì, ma questo è il capo Volava in aria Devo filmarlo Sai quanti clic gli facevano? Ce lo rifai per favore No, vedi? 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 Se vedi quella striscia sinistra Dalla la moto è volata Lì è picchiato C'è sto facendo? Ha sbagliato strada, ha andato via dritto e ha tagliato diretti. Ma la moto è rimbalzata e ha fatto un volo di 10 metri. Menomale, spaccava una colonna. Massimo ha un cacciavite a stella. Allora, è un cacciavito. e questi sono venuti qua per andare di la avete finito di fare la pulizia di primavera voi due oh bella è la nuova moda è un freestyler guarda farla fanno quasi di tendenza freestyler che bella che è così cattiva un altro americano tanto per sempre io parco a troia Grazie a tutti.